Oggi si celebra la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. A proposito di uso razionale di risorse primarie in tempo di crisi, a Pescara si registra un caso di dispersione idrica. C'è un appello dei cittadini e ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, cosa sta succedendo? Ci racconti? Buon pomeriggio a te Giuliano, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Noi come sai bene cerchiamo di rispondere a tutte le segnalazioni, sono tante, che quotidianamente giungono alla nostra redazione social. Stamattina ne abbiamo scelta una in particolare perché è abbastanza emblematica. Dicevi giustamente tu in una giornata come questa dove si fa grande attenzione, se ne dovrebbe fare tutti i giorni dell'anno. Ma ad ogni modo si parla di risparmio delle risorse primarie. Ebbene ecco che fine fanno le risorse primarie, in particolare l'acqua potabile in una via di Pescara. Siamo in via Montemidia, attraverso di Colle e Marino e nei pressi del liceo scientifico Leonardo Da Vinci. I residenti ci hanno segnalato che da giorni, probabilmente per via della rottura di una tubatura, c'è un rigagnolo perpetuo di acqua potabile che scende giù a valle e va a finire in questa piccola voragine che vedete che si è creata la settimana scorsa a causa delle abbondanti piogge. L'unico intervento è questa transenna che è stata posizionata ovviamente per motivi di sicurezza per le automobili e soprattutto per i pedoni. Ma nonostante le sollecitazioni dei residenti, nessuno, dico nessuno, è intervenuto quantomeno per dare un'occhiata di quanto sta accadendo. Ripetiamo, questa è acqua potabile che dovrebbe scorrere nei nostri rubinetti, invece si va a perdere in questo modo. Si parla di un centinaio di metri, almeno da questo punto fino a valle, ripetiamo, probabilmente a causa di una tubatura rotta. La strada, come vedete, è privata, quindi non si capisce bene se è il comune che deve intervenire o meno, anche se i residenti ci dicono che un buon tratto di questa strada è comunale, ma quantomeno almeno un tecnico dell'ACA che venga a dare uno sguardo, ormai sono passati già dieci giorni da quando questo rigagnolo scende in maniera, ripetiamo, perpetua giù in questa voragine, nessuno interviene. Ed è un vero peccato, Gigliola, che questa acqua potabile, ripetiamo potabile, vada sprecata in questo modo. A te la linea, Gigliola.